Non c'è pace per Contrada, Sant'Eustacchio e le zone residenziali di Avellino. Ancora ieri sera i ladri sono tornati a fare visita a due villette. I proprietari però si sono accorti dell'intrusione e hanno messo i malviventi in fuga. Un film purtroppo già visto, quello che riguarda l'allarme furti. Il questore di Avellino botte in vita i cittadini a denunciare, così come del resto hanno fatto in quest'ultimo periodo. L'impegno qual è? È quello di essere quanto più possibile su strada. Ma voi capite che ciò non è sufficiente e quindi io invito ancora la cittadinanza, per qualsiasi motivo, a fare sempre il 113. Noi interveniamo, non è successo niente, meglio ancora. Però questo è anche controllo del territorio. Sono episodi legati prevalentemente alla criminalità del Napoletano e delle altre province limitrofe, chiarisce botte. I malviventi arrivano dall'autostrada. L'autostrada è una corsia preferenziale per arrivare a queste contrade di Avellino che sono un po' più distanti dal centro. Però quello che vorrei sottolineare è che ancora una volta, grazie a qualche telefonata al 113, siamo riusciti a individuare due o tre bande che facevano i furti e soprattutto abbiamo recuperato della rifurtiva che fortunatamente è stata restituita quasi tutta ai legittimi proprietari.